ciao a tutti oggi prepareremo il budino al kiwi il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di raffreddamento gli ingredienti sono kiwi tagliati a pezzetti acqua succo di un limone zucchero semolato e amido di mais diamo il via alla ricetta mettere nel boccale lo zucchero e polverizzarlo 10 secondi a velocità 10 suonire lo zucchero sul fondo del boccale aggiungere il kiwi e tritare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo sempre con l'aiuto della spatola aggiungere l'amido di mais e il succo di un limone e far amalgamare per 10 secondi a velocità 4 sino ad arrivare a 5 riuniamo di nuovo sul fondo del boccale aggiungere l'acqua e far amalgamare per 20 secondi a velocità 5 adesso questa sarà la consistenza che avremo in questo momento faremo addensare il budino cuocendolo per 6 minuti 100 gradi velocità 3 il nostro composto è pronto bello addensato andiamo a trasferire negli stampi dopo averlo trasferito negli stampi andiamola a riporre in frigo per almeno 2-3 ore i nostri budini al kiwi sono pronti trascorse le 2 ore e mezza 3 ore andiamole uscire dagli stampi e andiamo a impiattare budino al kiwi grazie e alla prossima ricetta e alla prossima ricetta